Buongiorno a lei, dicami signore, sei venuto ieri? Si, a fare che? A dare tutti i nomi, cognomi e tutti. Indirizzo, codice fiscale, partita AIR, tutto a posto e oggi a fare la selezione. Bravo signore. Non mi chiami signore, mi metti l'imbarazzo. Va bene, è difficile chiamarti tu. Io devo chiamarla signora. Ma cosa vogliamo fare? Un quasi cosa. Un quasi cosa qualunque però. Sai cos'è? Secondo che ho visto il film Ben-Hur. Pure quello il remake o il Ben-Hur dell'inizio? Quello con Charlton Heston. E' quello Lando Buzanga. Stava un giovanissimo lato. Era anche Gemma, stava pure. Giuliano Gemma? Si. Ma quelli erano anche gli angeli mangiano fagioli. No, c'era sul Ben-Hur. E tu? Dai, dai, vai esponiti. Ha fatto Ben-Hur. L'ha visto? Si, si l'ho visto, però ero piccolino, me lo ricordo. Allora, lei, perché c'è diciamo, alla scommessa, c'è Gemma. Lei ha visto Ben-Hur e quindi? Mi piace quel film. E talmente le è piaciuto che vuole fare il corteo di Sanicato. Brava. Perché le ricorda Ben-Hur? Brava. Me lo immagino già lei sulla biga che è con la frusta. Brava, signor, brava. Signor, posso avere il contributo di questo ciacca? Ah, pensavo un contributo economico? No, 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 no. Poi intanto lo vedrai su internet. Bari.ilquotidianiitaliano.it. No, intendo avere il dischetto. Vabbè, vieni alla redazione. Via Papa Pio XII, 47, di fronte alla pasticceria Simone, appoggio a Francia. Sì. Brava, vieni là e te lo diamo. Grazie, lei è un signore. Sei lei, non ti preoccupa, andammi del tutto. È impossibile. Guarda, permette, non puro un bacetto. Guarda, appoggio. È impossibile. Lei? Signore, vieni qua. Allora, la via voi, ti ascrivi la via. Allora, via. Grazie. Ma poi che te ne fai? Papa Pio XII, 47, va bene? Questo è il mio numero. Qua me è il mio numero. 3, 4, 3, 4, 8. 8, 9, 6, 6, 9, 6, 9. Grazie.